Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del mini-cut. Mini-cut, ne parliamo perché ultimamente su Instagram sono arrivate molte domande in merito e tra parentesi se non mi seguite su Instagram, che diamine state aspettando perché Instagram è per me il mitocondrio della produzione di domande e contenuti per YouTube nel senso che là prendo tutte le domande che voi avete, rispondo ai Q&A però di base c'è un sacco di spunti per YouTube quindi seguitemi su Instagram e massacratemi domande anche là però detto questo, ora tantissime domande sul mini-cut, ne parlano tutti ora che questo coincida con un periodo post-feste, non lo so, può essere una coincidenza oppure no però sono tutti curiosi in merito al mini-cut. Abbiamo dedicato diversi video sul canale però rapidita human, come sapete mi piace rifare e ritrattare alcuni contenuti anche per vedere alcuni cambiamenti di idee o alcune nuove idee che possiamo utilizzare e quindi in questo video vediamo che cos'è il mini-cut, perché fare un mini-cut e come fare un mini-cut, quindi questi tre punti e partiamo con il primo, che cos'è un mini-cut? È un piccolo periodo di definizione, sostanzialmente questo è un modo giusto per vederlo, però me l'ho anche sbagliato se vogliamo, perché in realtà il mini-cut non è di per sé un periodo di definizione ma è una fase attiva di un periodo di off-season un periodo di bulk in generale, quindi deve essere visto come tale, non dobbiamo vederlo come ok faccio un piccolo cut, faccio una piccola definizione, no, sto facendo un periodo di bulk e all'interno di questo periodo di bulk inserisco un piccolo periodo di cut, sì di definizione come vedete la definenza è prettamente concettuale, ok? Da un punto di vista terminologico stiamo sempre parlando di un piccolo periodo di cut, che dura circa 6-8 settimane quindi che cos'è? Molto molto semplice, meno calorie per circa 6-8 settimane secondo punto, perché si deve fare? Cioè se sto facendo un periodo di bulk, perché devo inserire questo mini-cut? Per vedermi meglio? No, assolutamente no, questa è l'ultima cosa che ci interessa anche perché per come è impostato un mini-cut non porta a un grande miglioramento da un punto di vista estetico, anzi molto spesso è quasi un peggioramento, ci vediamo quasi un po' più flat, forse il miglioramento ce l'abbiamo ripartendo dopo in bulk comunque, il discorso è questo, in un periodo di bulk, per un soggetto che si allena andiamo pian piano incontro a delle piccole, possiamo chiamarle degenerazioni delle piccole complicazioni, ok? Stiamo parlando sempre del fisiologico, ok? Non si va mai a scaturire nel patologico, perché siamo soggetti sani, soggetti che si allenano soggetti che hanno uno stile di vita sano, mangiano in maniera sana, auspicabilmente a meno che non vi sfondate di oreo, ringo, che poi non so perché vanno così di modo all'oreo che fanno cagare rispetto ai ringo, comunque, divago soggetti sani non si scaturisce mai nel patologico, questo lo voglio chiarire parliamo del fisiologico, ok? Gradualmente iniziò a perdere un po' di sensibilità insulinica perché? Perché i recettori stanno in un brodo di carboidrati e pian piano si desensibilizzano perfettamente normale, allo stesso tempo il pancreas inizia a fare un po' di fatica dipende a quanti carboidrati arriviamo e alla nostra personale sensibilità insulinica soggettiva, alla nostra capacità pancreatica soggettiva d'altro canto abbiamo un peggioramento da un punto di vista enzimatico abbiamo un aumento di massa grassa, che è minimo, siamo sempre in range fisiologici va bene, però questo vuol dire un aumento anche della funzione pro-infiammatoria della diposciti, quindi abbiamo più input infiammatori e tutto questo porta, si parla sempre di antagonismo tra tessuto muscolare e adiposo ossia ho un surplus calorico, mi alleno, qual è il tessuto che ciuccia le calorie? generalmente è quello muscolare, se mi alleno, però man mano che andiamo avanti in un periodo di off-season questi parametri tendono ad essere inficiati, a compromettersi e gradualmente in questo antagonismo tra tessuto muscolare e adiposo il tessuto adiposo inizia a ciucciarsi un po' più di roba ossia siamo meno efficienti nel mettere massa muscolare e diventiamo più efficienti nel mettere massa grassa ed è qua che dobbiamo utilizzare il mini-cut come periodo per spazzare tutto via fare tabula rasa, ripristinare le funzioni ormonali, le funzioni mitocondriali le funzioni enzimatiche, il rapporto infiammazione e input anti-infiammatori e poter quindi continuare un periodo di bulk in cui saremo molto più efficienti e costruiremo più massa muscolare quindi il mini-cut serve sostanzialmente a questo banalmente lo inseriamo quando siamo troppo sporchi da un punto di vista di massa grassa lo inseriamo nel momento in cui abbiamo una perdita di sensibilità insulinica lo potete verificare col glucometro quindi utilizzando il glucometro e vedendo che la glicemia non salga oltre un tot sia quella al mattino appena svegli sia quella prima di ogni pasto perché vuol dire che non state gestendo bene i carbo del pasto precedente anche se sono rimasti grosso modo gli stessi o dell'analisi del sangue e idealmente dopo averlo fatto uno, due, tre anni sapete qual è il range di carbo e il range visivo anche allo specchio che vi dice ok è il momento di fare un mini-cut quando avete una forte compromissione dell'appetito, della fame anche là i mini-cut sono indici che il mini-cut deve essere fatto e dobbiamo prendere un po' tutti questi indici per capire quando utilizzarlo però vediamo come approfondiamo vediamo come approfondire approfondiamo quello che è il discorso dell'impostazione del mini-cut quindi come farlo e dobbiamo seguire diverse fasi ora ricordiamo un concetto noi tutti abbiamo una norma calorica teorica dipende, varia sempre nel corso del nostro allenamento negli anni tende ad alzarsi sempre un po' però sostanzialmente che cos'è? è il range di calorie che noi abbiamo per essere considerati normo alimentati ossia quel range di calorie in cui il corpo non si sta adattando a niente semplicemente ha le calorie di cui ha bisogno non è un numero fisso, è sempre un range perché ci sono un sacco di variazioni giornaliere però è quello che noi possiamo definire la nostra norma alimentazione può essere 2005, può essere 2007, può essere 3000 calorie dipende dal soggetto è quello stato in cui nulla cambia il corpo sta in una perfetta omostasi senza forzare nessun processo ok? perché il corpo ricercherà sempre l'omostasi quindi se io sto a 10.000 calorie al giorno a un certo punto nulla cambia, continuo a stare a 10.000 calorie al giorno se mi alleno avrò magari degli ottimi risultati se non mi alleno probabilmente sarò e cadrò nell'obesità e sostanzialmente il discorso ok, se continui a mangiare 10.000 calorie al giorno rimani e continui a rimanere obeso invece di scendere quindi il corpo cercherà sempre un omostasi ma c'è un livello in cui il nostro corpo non sta forzando nessun processo e questa è la nostra norma calorica teorica ora immaginate che in un periodo di bulk noi che facciamo? saliamo di calorie e pian piano il nostro corpo punta a mantenere l'omostasi quindi saliamo di calorie e il nostro corpo ne spende di più saliamo di calorie e il nostro corpo ne spende di più eccetera eccetera però più ci allontaniamo da questa norma calorica immaginate come se fosse una molla più il nostro corpo si sta forzando per tirarci a questo range quindi più mi allontano più ho resistenza da parte di tutti i miei processi del corpo e quindi alla fine di un periodo di bulk quando devo fare un mini cut mi trovo che questa molla è super super tirata ok perfetto quindi questo che cosa vuol dire? che nel momento in cui io torno a un certo range questa molla avrà tutto l'interesse a tornare molto forte cioè se io diminuisco leggermente la forza che sto imprimendo in una molla ok? sostanzialmente questa molla si accorcia tanto se sono arrivato qua se diminuisco della stossa forza la molla si accorcia un po' di meno ok? da un punto di vista delle calorie sto facendo un esempio di fisica elastica è tremendo me ne prendo conto però da un punto di vista calorico è lo stesso se io sto alto alto di calorie il mio corpo si sta forzando veramente tanto io nel momento in cui abbasso le calorie gli basteranno pochissimi giorni nel mio corpo per tornare a quell'omostasi ok? quindi nel momento in cui io invece da qua continuo ad abbassare magari delle stesse calorie non sto troppo alto rispetto alla mia norma calorica quindi il mio corpo ci metterà molto più tempo ad adattarsi ok? perché è come la molla fosse un po' meno tirata e quindi si accorcia un po' più lentamente vedetela così come esempio ora questo che cosa vuol dire? che io all'inizio del mio mini cut farò un drop calorico anche importante quindi un drop calorico di circa il 20% quindi se sto mangiando alla fine della mia fase di bulk un 5000 calorie scendo del 20% quindi tolgo 1000 calorie di botto torno a 4000 e rimango là per allunghiamo di una settimana per farla semplice ok? però verosimilmente anche almeno e in questo tempo il mio corpo si sarà subito riadattato a bruciare 4000 calorie perderò tanti liquidi perderò mi vedrò molto più pulito quindi da là scendo 4000 calorie nel giro della settimanella il mio corpo sarà tornato a bruciare 4000 calorie e avrò raggiunto il nuovo nomostasi quindi la prima fase è fare un drop immediato del 20% del vostro monte calorico totale ora da là iniziamo a scendere e scendiamo ogni settimana quindi ogni settimana effettiamo un drop calorico attenzione molto importante per ora non tocchiamo quello che è il discorso del cardio perché non voglio affaticare troppo non voglio inserire cardio aumento del NEAT eccetera manterrò quello che sto facendo in fase di off season e auspicabilmente ne sto facendo però non voglio toccare come discorso voglio lavorare soltanto sull'input calorico perché è molto elevato è un margine e quindi andremo a scendere di un 5-10% ogni settimana in base a quanto siamo sborchi a quanto siamo compromessi tra virgolette e così per diverse settimane fino a raggiungere la nostra normo calorica teorica una volta che siamo stati nella nostra normo calorica teorica l'ultimo tassello da fare è quello di aumentare a questo punto il cardio il NEAT perché? perché non voglio compromettere il metabolismo ossia tutti i risultati che voglio raggiungere ricordiamo non sono estetici non sono di mera perdita di grasso ma io voglio avere un metabolismo molto più attivo e un corpo che riesce a gestire meglio input calorici per gestirli meglio la cosa più stupida da fare è scendere troppo di calorie e scendere da un punto di vista della nostra normo calorica cioè scendere oltre la normo calorica teorica nada non una buona idea voglio rimanere e abituare il mio corpo a avere nutrienti ma deve abituarsi a gestirli quindi rimango alla mia norma calorica teorica e vado ad aumentare gradualmente il cardio auspicabilmente il NEAT andando a vedere sempre che non comprometta troppo il nostro allenamento tutta questa fase cioè tutto questo percorso in minicat dovrebbe avere una durata di 6 fino a massimo 8 settimane perché quando iniziamo a fare 12 settimane stiamo parlando di un cut vero e proprio quindi nei cut 6 massimo 8 settimane dovremmo essere veramente perfetti a questo punto per uscire dalla fase di cut andiamo ad aumentare e ripartiamo salendo gradualmente facciamo come se dovessimo semplicemente affrontare di nuovo un periodo di bulk dalla norma calorica saliamo gradualmente e di questo ho già parlato in diversi video ora domanda che molto spesso viene nel momento in cui scendo che cosa tolgo carbo, grassi idealmente non fa troppa differenza dobbiamo mantenere la nostra cg ratio quindi il rapporto tra carboidrati e grassi ho dedicato dei video alla cg ratio in un range ottimale idealmente più verso il 10 quindi il mio totale di carboidrati settimanali i miei grammi di carboidrati settimanali diviso i miei grammi di grassi settimanali dovrebbero risultare circa in un 10 o poco meno comunque compreso sempre tra 5 e 10 perché stare più sui carbo perché sono quelli che impattano in maniera più positiva sul discorso metabolico impattano in maniera più positiva sul discorso tiroideo e sono più facilmente convertibili in calore quindi tendenzialmente mantengono il metabolismo soprattutto a livello mitocondriale un po' più attivo rispetto agli acidi grassi quindi non esageriamo di grassi per cui in base a come siamo alla fine del periodo di bulk cerchiamo di ottenere questa ratio molti che sono saliti anche tanto di grasso nei periodi di bulk si trovano che facendo questi mini cut scendendo solo di grassi e mantenendo i carbo inalterati o addirittura in alcuni casi aumentandoli un pochetto ma diminuendo le calorie vedono che c'è un ottimo miglioramento e questo è abbastanza normale il problema è che probabilmente abbiamo lavorato male in fasi di bulk perché abbiamo aumentato troppo i grassi che non hanno un impatto diretto sulla performance e noi sappiamo che dobbiamo aumentare le calorie in funzione di quella che è la performance quindi questo è un po' il discorso credo di averla fatta complicata in alcune fasi di questo vi chiedo scusa con metafore ed esempi però qualsiasi domanda scrivetela qua sotto sarò ben lieto di rispondere come sempre e noi ci vediamo al prossimo video finita questa cosa ho fatto ciao Grazie.